Con Davide Di Molfetta al termine di Gubbio Mantova, Davide è un punto importante che conferma il trend positivo in trasferta, soddisfatto? Sì, è stato un punto importante perché soprattutto volevamo riscattare la brutta figura che abbiamo fatto domenica, volevamo dimostrare noi stessi alla società, ai tifosi, che noi non siamo quelli di domenica scorsa, ma oggi abbiamo dimostrato sul campo grinta, appartenenza, orgoglio e amor proprio, quindi era importante dimostrare queste cose e credo che l'abbiamo fatto, poi è normale, vincere era ancora più importante, però di sicuro star lì davanti va bene e domenica sarà sicuramente decisiva. La qualità migliore del Mantova che hai visto oggi? Come ho detto prima, abbiamo dimostrato amor proprio e orgoglio, abbiamo dimostrato la cattiveria giusta che ci voleva, abbiamo concesso poco, abbiamo tenuto bene il campo e comunque contro una squadra, secondo me, sulla carta, comunque con ottimi giocatori che hanno fatto anche i cattegoli superiore. Si poteva usare di più oggi pomeriggio o siete soddisfatti di aver tenuto a distanza una diretta concorrente come il Gubbio per i play-off? Sì, sì, di sicuro potevamo creare di più, si poteva usare di più sicuro, però come ho detto prima, secondo me oggi era importante non perdere e riscattare la partita di domenica e credo ci siamo riusciti. Vi aspettavate un Gubbio più aggressivo? Sì, oddio, al primo tempo comunque ci sono stati dei minuti che ci hanno chiuso nella nostra area, poi è normale, alla lunga si sono un po' allungate le squadre e quindi abbiamo fatto valere anche un po' meglio il nostro gioco rispetto al primo tempo, però come ho detto prima, è una buona squadra, il Gubbio ha dei ottimi giocatori. Il Gubbio si lamenta per il rigore non concesso nel primo tempo, come l'hai visto dal campo? È stato un contrasto di gioco veloce, non ho visto bene, ci poteva stare come non ci poteva stare. A noi ultimamente non hanno infischiato magari qualcuno che c'era, quindi fa parte del gioco e va bene così. I play-off sono più vicini dopo la conquista di questo punto? Sì, come ho detto prima, domenica secondo me sarà decisiva, diciamo, perché vogliamo tornare alla vittoria in casa e vogliamo consolidare il nostro posto nei play-off. Parlando proprio della gara di domenica prossima contro il Viz Pesaro, quanto sarà importante quella gara? Sarà una finale come lo sono state queste ultime partite, sarà la penultima finale e dobbiamo sacrificarci ancora di più, dobbiamo dare tutti qualcosa in più perché sono sicuro che ce lo meritiamo perché abbiamo lottato, abbiamo meritato da inizio stagione.